lo dico anche nella registrazione che simpatica maria rosa finalmente una persona simpatica ciao stefania ciao lucia ciao maria rosa ciao a tutti invito ti aiuto a connetterti maggiormente accompagnano come connetto ti maggiormente con a maria rosa contando da 5 a 154 3 2 1 la legge la vedo e la vedo come bambina che sta camminando con una donna una donna che la tiene per mano ma la bambina povere due o tre anni stanno camminando non li vedo qua non li vedo su su questo piano non le vedo qua le vedo come fossero in un altro in un altro in un altro tempo in un'altra dimensione su un altro piano stanno camminando come se maria rosa fosse ci fosse una parte di maria rosa che è su un altro e attualmente su un altro piano con questa donna chi dà l'autorizzazione maria rosa sì 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 ma cosa quindi non ho capito si accompagna una donna in un'altra linea temporale esatto esatto diciamo che si può dire che sta vivendo comunque passa del tempo con questa donna che la compagna potrebbe essere una una nonna o anche non una parente però una una persona che si occupa di lei che si prende cura di lei su quest'altro piano in parallelo a questo imparare la nonna che ha voluto chiamare direi di no guarda dire di no direi che non attinenza quella donna con parenti di questa vita di questa vita qua è proprio un'altra donna che lei la conosce e che si occupa di lei sono unite ma non ha a che vedere con parenti che lei conosce in questa vita è mai un disincarmato neanche allora è come se fosse una forma energetica che io vedo come donna ma prende lì le vesti di donna perché è con lei però è come se non fosse non non avesse avuto passaggi su questo piano terreno sto pensando come come contestualizzarla come inserirla però la vedo come fosse un come posso definire una guida c'è una persona che non si è incarnata ha scelto di non incarnarsi e non ha fatto passaggi di vita terreni perlomeno non non recenti non negli ultimi secoli e proprio come fosse una figura che si occupa di lei la e penso ce ne siano delle altre è come se la vita di maria rosa ad un certo punto avesse ci fosse stato un biviano in cui lei è rimasta una parte di lei è rimasta la rimasta la su questo piano e l'altra parte è tornata qua adesso diciamo di capirlo allora vediamo la vibrazione di maria rosa 180 miliardi percentuale di consapevolezza 160 per cento psp la ps la vedo 70 per cento la pia e 30 per cento vita precedenti 2500 cervello 6,8 ok beh andiamo all'incidente in casa da piccola lei pochi anni scusa lei ha pochi anni le cade dell'acqua bollente addosso va in coma e da una ob e auto fa di experience cioè esce dal corpo va nell'aldilà andiamo insieme a maria rosa nell'aldilà allora l'immagine che immagine che ho vista all'inizio penso che da come sento si riferisce proprio al proseguimento dell'esperienza che lei ha fatto quando lei ha detto che c'è stata questa ha avuto questa immagine lo raccontava nei punti di questa donna che le ha teso la mano questa anima che le ha teso la mano lei ha visto questo 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 tu nel questo passaggio è come se l'immagine che io ho visto all'inizio fosse un proseguo come se invece ti puoi lasciare la mano invece la donna gliel'avesse impresa e l'avesse portata di là quindi è come se una parte di maria fosse realmente passata attualmente quindi quale parte la subliminale è una parte di anima una parte subliminale ma anche una parte eterica come se non si fosse proprio nettamente divisa però come se non fosse completamente qua e anche non completamente la per una parte come se una parte proseguisse il percorso la a vedere le percentuali mi vorrebbe da dire perché potrebbe essere più una parte di pietro e come se lei proprio stesse sì che cos'è l'aldilà andiamo all'alti nell'aldilà che cosa e dove ci sono i disincarnati quindi lettere maleterico proseguirei magari dal tunnel che lei ha imboccato in modo che circa ci lo per lei ha visto lei ha visto un sentiero con i fiori accanto no si è arrivata la mano si luce l'ha preso la manina la tirata su e poi lei ha detto no tu non è ancora il tuo momento no io vi venire con te insomma il classico racconto è talmente classico che quasi sembra fincono bene chiamala la mano venga a farsi vedere la mano e la donna che vedo è una se vedo che prosegue della mano è una forma femminile si presenta così toccala e cerca di capirne il dna eterico ma sento con la gran parte di quella è proprio un'energia come fosse come fossero dei filamenti di luce dei filamenti di luce che hanno quella forma ma che prendono diciamo una sembianza però come fossero dei filamenti di luce uniti e avvicinando mi sento del calore proprio del calore fisico ok che qual è il dna non lo so qualificare nel senso che non sono i dna che io conosco solitamente non c'è falconi non c'è filino e sento come se c'è una fase subliminale non è parato è come se fosse una una luce proprio una energia energia io ne sospetto stefania chiama si la fiamma di maria rosa la fiamma rispetta la sua vita attuale ma la fiamma si di maria rosa una sola l'anima l'anima fiamma la fiamma gemella vediamo dove è se incarnata non incarnata se qui se l'asse giù se incarnata in una donna in un uomo in un bambino in un vecchio perché non sempre decidono che ci siano i presupposti quindi io la vedo come un bambino maschio attualmente è come se fosse avesse circa tre anni quattro anni dove è sulla terra incarnato in che posto in spagna in spagna ok chiama quello della mano o quella della mano e di di mettersi di fronte a te di presentarsi con la sua reale forma dicendoci la natura del suo dn anzi no lo verifichi tu non c'è non te lo fai dire allora io sento che sì la forma cambiata in forma cambiata e la sento come una presenza rettiliana come si chiama si chiama allora e si chiama rad 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 cosa fa questa testa allungata riguarda il mobile sta immobile si sta guardando ed è se si stupisce di essere stato scoperto chiedi come ha fatto a nascondersi così bene un semplice stupido rettiliano gli è stata data energia da chi e come se per per potersi nascondere non è l'unico che viene dato c'è nel senso che viene distribuita questa energia da vedo che ci sono anche delle delle figure in secondo piano cioè non sono lì in presenza ma sono come collegate con dei fili a l'uso che sono di i militari soldi militari c'è una come fosse un gruppo un un gruppo che è adibito a fare esperimenti di premorte quindi praticamente chi passa può essere più che chi passa chi non passa può essere utilizzato per quindi per fare per essere poi studiato per essere perché vengono dei lavori sul suo corpo ok come si chiama questo progetto dedicato dimmi dimmi scusami dedicato a maria rosa ea tutti quelli che fanno una visita nell'aldilà no una esperienza di premorte leggo neos ok è un posto preciso dove si incontra questo gruppo dove fanno gli esperimenti dove fanno questo cioè in questo esperimento lo fanno un po ovunque o c'è proprio è come se fosse un 7 cinematografico chiamiamolo così no dove ci sono degli addetti precisi dei camera non precisi come se fosse un 7 ci sono più gruppo c'è un gruppo unico ci sono più posti in cui viene fatto questo ok e la settore rettile entità che fa dio con la mano che scende eccetera viene investito di una quantità di energia che verabbo da odino da qualcuno per poter fare il dio che dice no è stato bravo non sei stato bravo la mamma piange devi tornare indietro ma io non voglio la stessa storia insomma infatti torna di conti perché maria rosa da quel momento ale inizia il bailame qua più o meno le cause sono sempre le stesse attacchi eterici e fisici presenze presenze in stanza persone cose che escono dagli specchi demoni seduti su una sedia esperimenti fatti di tutti i tipi contatti sin da piccola e poi ricordo di un esperimento di una taxon vera e propria dove dei grigi che lei ha visto senza bocca che le parlano attraverso la testa le dicono svegliata non ti dovevi svegliare non avrà mai più figli lei sente un discorso di feti ma analizziamo tutto fatto riassunto di tutti i punti di maria rosa devo dire questa cosa allora l'immagine iniziale mi dà mi dà questa 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 sensazione qua no la collega questo è come se nel momento in cui maria maria rosa ha avuto questo incidente che poteva avere due anni due anni e mezzo è come se una parte di lei fosse stata prelevata proprio una parte che direi che può essere più pie che pese comunque come se una parte fosse stata catturata quindi è tenuta ferma la ok è tenuta ferma e nel mentre sul piano fisico loro stanno hanno aperto appunto questo progetto hanno su di lei stanno attuando questo progetto proprio perché loro sanno che con le esperienze premorte spesso si aprono dei diciamo dei canali no si si tolgono come dei veli percettivi per cui vogliono lo scopo è studiare questa parte e lo scopo chiaramente anche prelevare energia fare esperimenti prelevare effetti insomma tutta questa questa parte però una parte è rimasta è bloccata la è che anche una parte energetica sua quindi se potrebbe anche riprendere e riportare a casa diciamo anche le varie cose facciamolo facciamolo vada riprendersela subito ok maria rosa sta ha strappato di mano la bambina così come 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 si presenta da dalla mano che 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 era lì che camminava insieme a lei è stata di mano e ha fatto questa azione qua per inserirli all'interno come energia la ripresa quello che è andato di là però è energia non può essere una parte di ps con una parte di pie non può essere una parte di energia e forse proprio quell'energia che va ad alimentare nel suo caso o i raptors in altri dislocazioni dislocamenti per curioso ci diciamo una cosa che non insomma non aveva ancora visto nel fatto che avesse abbiano potuto tenere ferma una parte d'energia da un'altra parte insomma così come fosse una bolla catturata quindi probabilmente eterica probabilmente eterica se si chiamolo se eterica adesso lei l'ha integrata era integrata merete rica ereterica vedo anche che le percentuali si stanno spostando poi lo verificheremo alla fine ma di psdp e vedo anche che si stanno spostando aumentando la la p e dire di sì direi che la parte eterica quella era una parte eterica per adesso è in lei c'è quindi ha recuperato questa parte energetica che era stata tolta a verso i 23 anni e con questa parte fa fa sparire direttigliano lo usa anche per per avere il comando su quella insomma non la fa sparire non c'è più quell'immagine immagine iniziale ok andiamo a una vita parallela precedente parallela qualunque la più importante lo chiediamo alla sua parte subliminale dimostrarci la più importante allora la vedo in una sarà in una città dell'ord europa dell'ord europa come un uomo e la vedo come un nuotatore vedo che tra dovrebbe essere gli spezia in islanda però la vedo in un paese freddo diciamo è un uomo un ragazzo sportivo si allena e nuota nuota questi mal freddo diciamo la vedo anche d'inverno che nuota avrà nell'immagine avrà sui trent'anni 25 30 perché ci mostra questa vita questo uomo era contatto in questa vita era era in contatto con delle vedo dei militari dei progetti ma con il modo era una scelta quindi in modo volontario consapevole si era proprio strettamente collegato non sapeva a cosa servissero questi progetti però era collegato e le aiutava e aiutava erano come dei progetti segreti ai più e lui era un collaboratore non collaboratore sembra che ci sia un centro può essere in islanda che presenta ancora adesso praticamente sotto vedo una montagna un vulcano insomma una parte così sembra un po sembra alta e sotto all'interno c'è questo questo una base una base dove fanno degli esperimenti degli esperimenti sulle persone quindi in quella zona prelevano prelevano delle persone ma gli esperimenti li fanno lì e all'interno va bene ci sono degli impianti in mario rosa si vede un impianto a livello della della mandibola della mandibola in questa zona qua così fino alla punta tutto un impianto a che serve serve perché lei parli meno possibile di queste cose c'è un impianto che ha la funzione di non comunicare non condivisione come se cercassero spesso di impedirle di parlare di parlare di raccontare come se diciamo un effetto sull'interno ma anche sull'esterno nel senso che come se quando lei cerca di comunicare raccontare le esperienze che vive avesse delle difficoltà più che nel parlare avesse degli acciacchi dei problemi le capitassero delle delle cose che interferiscono con il suo comunicare proprio l'evento che le è capitato e anche rispetto all'esterno quando lei lo fa quando le capita di farlo e poco creduta quindi anche un rimando energetico diciamo un aggancio sugli altri affinché appena ricevano l'informazione la mettono la mettono da parte c'è un altro se non all'altezza dei polmoni in centro come fossero così come fossero due ali diciamo così messe così oa cuore insomma comunque messa sulla schiena così come la metà di una mela come la metà di una mela si però un po più aperta ecco così ma fa sì ma farla non è come un cuore perché la parte sotto chiusa come la parte sopra ma più piccola forse no sì proprio come fossero due mani messe così ok ma che serve allora questo le dà un effetto di costruzione a livello emotivo sentimentale come se a un'azione intanto sul fisico nel senso che come se ogni tanto le desse un senso di chiusura proprio di chiusura va a stringere come se andasse come se facesse questa azione all'interno di andare a restringere un po sul respiro un po sulla sulla parte anche emozionale che anche ha un effetto da dietro a parte da dietro ma un effetto anche sulla parte diciamo della dei sentimenti quindi del cuore hanno detto come come sentimenti quindi sulla parte affettiva come se si sentisse ogni tanto in una morsa e non riuscisse totalmente a più che ad amare a accettare di essere amata questa parte qua quindi ha un effetto proprio sui sentimenti come se si dovesse come se si dovesse sentire sempre un po distante dagli altri diversa distante altri basta ok entità eteriche ed entità mentali se ci sono vediamole l'entità eterica vedo falconi form e anche più edl e dl c'erano ma non ci sono più chiamati mandati via quanti erano chiamali erano tre quando li ha mandati via sono andati via li ha mandati via non più che sono andati proprio lei li ha mandati quando ha deciso di non credere più che la preghiera funzionasse per salvarsi da cacciati mentali che un po lei già descritte mentali si mentali mentali li vedo ma collegati più o meno hanno una funzione comune no anche anche quegli impianti eterici mentali sono legati alla alla parte del del sentirsi distante distaccata perché se ci sono le esperienze ma è una parte anche legata proprio all'impianto ma non mi viene la parola all'entità mentali che fanno sì che lei si senta separata dagli altri separata dagli altri quindi hanno questa questa funzione e questa azione per cui anche in un gruppo di persone che hanno tutti una stessa esperienza lei non si sente unita non riesce a far parte totalmente del gruppo si sente diverso a che livello questa entità 4 c'è solo questa e poi c'è un'altra entità mentale che legata delle convenzioni che sono radicate per quello che gli hanno detto durante gli esperimenti del tipo tu non potrai avere figli tu non il livello e 5 ma sono proprio legate a delle delle impressioni che sono le date gli esperimenti per cui quello che gli hanno detto come fosse una sorta di lavaggio del cervello quello che gli hanno detto lei ce l'ha ancora l'impresso nell'entità mentale ok ci sono impianti mentali e tiri ce l'abbiamo visti mentali vedo come un bottoncino a livello di dell'area sinistra del cranio sul dietro proprio come fosse un bottoncino ecco adesso lo vedo collegato a quello mentale di prima praticamente che proietta proietta in continuazione questi messaggi che loro le programmano quindi loro li hanno programmato in abduction quando l'hanno prelevata e poi lì come ci fosse la programmazione del non del ricordo dell'esperienza perché quella non se la dovrebbe proprio ricordare al loro avviso ma dei messaggi che loro le hanno rimandato quindi magari si può vedere anche che messaggi sono programmati all'interno in modo che quindi di amore lì uno era legato alla parte appunto riproduttiva e vediamo uno è legato alla parte fisica ecco alla parte fisica c'è un rimando se non continuo sono molto molto pesante sul fatto che lei non va bene non va bene che non dovrebbe essere diversa dovrebbe essere diverso ma tutto fa parte del piano che lei deve essere distaccata dagli altri quindi dovrebbe isolarsi e loro avviso lo scopo è che si isoli e che entri sempre più in se stessa in senso negativo cioè che si chiuda e che quindi loro hanno più possibilità di adduction e di succhiare energia se entra in questa fase della chiusura e quindi delle vibrazioni basse quindi lo scopo è quello di portarla ad isolarsi ecco lo scopo che si isoli ok chiamiamo tutti quelli che hanno fatto questa esperienza di maria rosa mettiamoli nel cinema in tutti i tempi sia che in questo momento siano incarnati sia che in questo momento siano disincarnati si sono disincarnati vanno in una zona diversa dentro il cinema no fuori dal cinema diciamo in una zona in cui chiameremo fra poco e disincarnato di maria rosa altrimenti si sono attualmente incarnati e hanno fatto nelle loro vite parallele un'esperienza di premorte hanno visto l'aldilà hanno visto il teatrino il 7 cinematografico li invitiamo nel cinema dimmi se arriva qualcuno quanti più o meno guarda hanno quasi sfondato la porta di ingresso così sono arrivati tutti insieme sono arrivati tutti insieme come un popolo non una una fila un proprio tutto insieme sono presenti anche questo è un modo migliore per sputtanarli questi queste entità che poi ci siamo creati noi stessi no per dire fine a questa esperienza che noi abbiamo creato per noi stessi l'abbiamo fatta fine basta finito prendere tutte le persone che l'hanno fatta e renderle consapevoli di quello che non hanno consapevolizzato che è stato un gioco che è stata un'esperienza è come quando da bambini si gioca fatti si dice facciamo finta che se tu sei il medico io sono il benzinaio facciamo finta che io e superpotere ti leggo nel pensiero così avrei faccio questi giochi diciamo finta che adesso io faccio quello faccio quella tu fai la parrucchiera e io vengo da te mi faccio fare i capelli dicono le bambine no poi muovono poi vediamo il tè classico e bambini bevono il tè e hanno le tazzine giocattolo e fanno finta di bere ecco è questa roba abbiamo fatto un gioco però si può ripetere sempre lo stesso gioco perché poi chi si ritrova lì a cioè le informazioni di quel gioco le ha già le condividiamo poi tutti come ps quindi facciamone un altro facciamo un gioco diverso facciamo il gioco dell'abbondanza facciamo il gioco dell'era d'oro adesso basta stanno tutti guardando lo schermo e sono proprio quasi appiccicate lo schermo sono tutti lì vicino al piccolo palco del cinema no se se si dice quasi come se fossero a un palmo dal naso dello schermo così hanno già visto tutto adesso li vedono ognuno sullo schermo rivede il suo viaggetto a nell'aldilà con tutte le sue caratteristiche specifiche quindi per maria rosa c'era la mano bianca il vialetto coi fiori il vialetto tipo mago di oz per qualcun altro ci sarà la mano nera o la mano rossa o due mani una mano femminile una mano maschile alla mano di un bambino sì una parte vedo una parte che che emozionata come se piangessero una parte ma non di gioia perché gli è stato tolto una una credenza come se rendendosi consapevoli di questa parte venisse meno la parte del nell'aldilà della credenza rispetto all'aldilà e rispetto all'esperienza che hanno fatto perfetto domanda nelle varie abduction di maria rosa ci sono stati prelievi difetti 3 fisici vede 23 fisici due eterici lei se ne accorta della corta su questo piano c'è di essere incinta o se ne accorta della c'era corto della corda allora lei se ne accorta su quel piano lì come ci aveva accennato nei punti ma se ne accorta anche su questo piano nel senso che ci sono stati 12 20 in cui le ha avuto come 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 del grande fastidio fastidio come delle fitte all'addome al basso addome che lei aveva rilevato come un preciclo anziché una cosa legata agli ormoni sono però erano stati stati quelli in quei momenti lì nel senso che sono avvenuti non di giorno ma di notte però lei ha sentito col corpo quando ha sentito quell'effetto sul corpo era post prelievo 12 giorni dopo post prelievo quindi almeno due vedo eventi in cui ha avuto delle fitte delle film delle fitte del ciclo molto molto abbondante ecco come si chiama il progetto di maria rosa io leggo mens mens che dovrebbe voler dire mente probabilmente mente in latino perché mens che ha mai il proprietario di questo nome cioè il realizzatore di questo progetto il capo arriva vedo un generale perlomeno così si presenta è un militare e neanche penso italiana è un militare ma ti posso descrivere la divisa non so se serve a qualcosa chiedigli semplicemente come ma immenso perché dice che tutte le persone che fanno esperienze come ha fatto lei quando era piccola sono facilmente collegabili attraverso la loro mente a questo progetto cioè lei rientra in questo progetto perché e ha iniziato a rientrarci quando ha fatto l'esperienza di coma quindi da lì in poi dall'in avanti è stata agganciata al progetto mens sì ma perché mente perché loro è come se passassero attraverso la mente vediamo se arriva una risposta che è un po più significativa ebbene loro agiscono su anche sul corpo sul corpo quando fanno i loro esperimenti loro laboratorio penso sia legato al discorso della dell'impianto mentale quel bottoncino e collegato la nuca destra sì sì a sinistra si è collegato a a quel progetto quindi loro questo progetto creano questo impianto che viene applicato durante il loro sperimento viene applicato a cui poi il progetto si collega va bene allora questa è una parte molto importante adesso quella che facciamo adesso al di là di poi la fase finale al di là di quelli che abbiamo chiamato allora riassumiamo all'osso sì maria rosa perché maria rosa ha detto delle alcune cose che secondo me invece vanno rivalutate ci parlava per esempio di un sogno sì un sogno in cui lei era con in braccio un bambino il bambino sapeva che era l'ex e adesso non ricordo bene comunque arriva il cattivo da dietro loro sono tutti in fila il cattivo satan al diavolo il diavolo oggi siamo di via andiamo di diavolo deve scegliere qualcuno lei prega e sceglie quello accanto sono insetti in tanti no c'è una fila giusto ricordo bene comunque sceglie quello in casa canto lei ha salvato il bambino si sveglia sudata chiama l'ex dice stai attento ti racconto quello che è successo è l'ex il giorno stesso il giorno dopo a un incidente automobilistico e si sa molto grave e si salva quindi quello che è stato visto nel sogno potrebbe essere considerato un sogno per monitore succede nella realtà o lei fa un qualche cosa che poi si riflette davvero nella realtà bene chiamalo questo demonio che ama il demo il demonio oggi demonio chiamala demonio perché qui questa è un grande gana grande sala giochi per bambini ne abbiamo giocattoli sono tutti i nostri tutti sono di tutti noi nessuno ha un suo giocattolo preferito cioè di proprietà ma sono tutti i nostri anche il demonio io voglio il giocattolo demonio qui adesso creiamo un palco di 23 gradini circolare e ognuno che chiamiamo lo mettiamo lì sopra con l'occhio di bue sopra sì ma quando tu mi hai descritto la scena io ho visto di nuovo questo militare la sua generale questo era il demonio si fanno abduction ci facciamo fare tante abduction da questi qua che non esistono facciamo un abduction noi facciamo una bella analisi militare dov'è e fisico e fisico sempre reale reale quindi era un abduction vera e propria questa scusate sì dire di sì sì dire di sì ma lui direi che è americano questo questo generale è vivo vivo il bambino guarda il bambino ecco il bambino che nominato prima non era ragazzo se devo dire il finanziato era quel ragazzo che la sua fiamma quello che ha tre anni adesso se lei non lo stava salvando questa è un'illusione se semplicemente era riconnessa a se stessa si ok chiama la lei come psp e andiamo da vedere questo demonio ma comunque chiamiamolo il demonio cioè demonio uno dei nostri giocattoli magari non ha interagito con maria rosa nella sua vita però vediamolo se c'è ancora perché poverino e nel secondo universo che è sempre più stretto ma io quando hai detto demonio ha visto il militare c'è come se quella figura lì in realtà fosse fosse era avesse preso le sembianze cioè si fosse mascherato da ma in realtà io non lo vedo abbiamo il demonio lo stesso e voglio il demonio quando si dice demonio chi arriva e io vedo questa figura chiamando il demonio vedo questa una figura nera vedo con delle parti di rosso anche come sul viso avesse delle parti delle parti rosse quindi una testa nera e rossa anche gli occhi ma anche gli occhi rossi vedo le impiedi e le impiedi fermo secondo primo universo primo 10 tna vedo rettile di nuovo vedo anche qua anfibio una parte minima parte canide ci siamo scomodati per una roba così niente avendo lo risalutiamo e via in un portale definitivo ci siamo ok è andato ok chiamiamo la ps di maria rosa le chiediamo perché questa esperienza quali erano gli obiettivi quale cosa si è imparato quali sono i presupposti futuri ti chiede solo una cosa il militare sul palco non lo lasciamo lì e si tanto che risuovere dopo lasciamolo lì si tolga tutti i vestiti resta lì sotto l'occhio di bue non c'entra ridere ciò che si fanno quello che vogliono perché capiscono che noi non abbiamo capito che siamo noi quelli che gestiscono una cosa adesso che l'abbiamo capito la gestiamo la cosa quindi si toglie tutti i vestiti e non so si dipinge il corpo di argento ma deve essere bello visibile sì 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 si vuole girare di schiena nel senso che non vuole farsi vedere di fronte però rimanga pure di fronte ok allora lo lasciamo lì adesso è messo di schiena si è messo di schiena ma l'ho reggirato di fronte fatti ma chi glielo ha detto non voleva farsi non voleva non voleva essere riconosciuto tanto ormai le mani ai fianchi e mani ai fianchi lungo i fianchi tutto deve essere visibile la merce è fuori visto che esistente ma non lo so se vuoi possiamo dare qualche dettaglio in più su chi è non tanto sul nome ma ma che buono ma il nome non so se mi arriva il di colore di allora di sì 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 se bianco dire che era appunto americano allora alto 180 178 1 80 e cap allora l'età lo vedo c'è 55 anni 56 56 vedo che ha una sulla spalla destra a come una cicatrice come se avesse avuto un incidente l'hanno operato invece c'è una cicatrice come un po una rientranza come un po una parte cucita ma un po una rientranza quindi proprio sul verso l'osso della scuola destra quindi c'è stato un incidente non so se di guerra di combattimento e poi vediamo se c'è una parte riconoscibile modo che così si sente bello riconosciuto ha un problema scusami gli organi di sinistra dunque a destra c'è il peccato comunque ha un problema credo che sia la cistifelle al pancreas non è vitale ma comunque insomma e poi sembra che doppichi alla gamba sinistra cioè leggermente claudicante insomma quindi quando cammina leggermente si fa un po lo scatto con la gamba sinistra ok direi che questo è il suo quadro va bene andiamo se dimmi no 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 niente andiamo al cluster ok allora tipo questa era una domanda che mi hai fatto prima mi sono concentrata su questo questo personaggio allora la ps la pie insieme diciamo che lei ha vissuto questa esperienza non perché c'è stata una collaborazione che è stata importante in quella in quell'altra vita che abbiamo visto dove lui era un ragazzo diciamo no importante ma lui non sapeva esattamente cosa succedesse quando le persone venivano prelevate venivano studiate venivano fate esperimenti e dice che ora lo sa ora lo sa ora si rende conto di quello che è successo e delle collaborazioni come sono andate a finire ok andiamo al cluster ok ma l'immagine che mi arriva di come fosse una grotta con dei passaggi quindi come come dei tunnel quindi dei passaggi e ogni passaggio porta a dei contratti quindi a delle piccole nicchie fatte così rotonde con un ripiano dove sulle quali ci sono appoggiati i contratti di carta così piegate come fossero una lettera sono cinque tunnel nelle e lì davanti cinque tunnel si sono limitati non sono tunnel che vanno ovunque sono come fosse una grotta e poi finiscono lì col muro nella trova senza uscita senza uscita ok vai dentro cosa ci sono dei contratti di carta carta di carta di carta di lettera ma facciamo conto che un tunnel due nicchie per per lato sinistra destra 9 dove ci sono questi fogli appoggiati chiusi in una busta quindi facciamo conto di tunnel a quattro mi sono una ventina di contratti via tutto vai l'ha fatto ho fatto giù la grotta insegnale vediamo se lo fa da sola a crearsi una d'eterno se no io lo insegniamo lei sa come farlo solo che non è sicura di come non è sicura che il suo modo sia quello giusto quindi io non vi lo mostro si sente ha creato uno grande che era grande come la grotta che era parecchio grande e poi stiamo muovendo le mani in questo modo qua come se girasse l'ha messo lì l'ha messo bene andiamo alla volta allora si presenta questa stanza con inizialmente non vedevo niente è come se ci fosse una parete riflettente c'è una una porta scorrevole riflettente non proprio specchia ma quasi che si però si apre cioè si può andare ad aprire quindi questo modo qua a semicerchio e dietro c'è questo personaggio come lo vedi questa volta lo vedo come sembra un'umanoide un mano di vestiti di colori normali quindi a una maglia marrone con la col colore a giro così giro colle somma e poi dei pantaloni blu ok cosa vuole farne lei ha aperto la porta ha aperto la porta l'ha presa subito la propria l'ha tirato fuori da lì non sembra con i superpoteri sono molto irruinti quando vedono l'avatar bene tutto via non è più importante stare lì a capire se si è arrabbiati non si è arrabbiati se questo perché alla fine questo ha eseguito degli ordini che in gira 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 sono nostri sì io picchio tutti i giorni e tutte le sessioni su questo roba nostra non è che i rettiliani sono cattivi li abbiamo fatti noi servono giochi giocattoli è vero che dopo un po i giocattoli stancano bisogna cambiarli o semplicemente eliminarli o diventare più grandi allora che bella questa immagine e giocattoli non servono più i butti perché si è diventato grande la ps diventa grande fa esperienza ha fatto quella con i giocattoli adesso menti più giocattoli via l'avatar un ad eterno in cui se ha spazzata via tutto ho messo una data con un grande sopra la posizionata in alto ok gli impianti eterici l'impianto mentale il bottoncino dietro la nuca sinistra parte sinistra l'identità mentali 45 l'entità iteriche falco anfibio tra vecchi dl raptos il progetto né mens neos 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 che cos'è che era neos era il progetto adi dell'aldilà medico la specifico per maria rosa militare che ancora lì nudo militare c'è ancora se si ferma non si può nonostante non si abbiamo tolto tutto è ancora lì e sì ok fallo togliere a maria rosa guarda la sbriciolato visto che era rivestito di questo di questa polvere argento di questo sbriciolato se il cinema chiuderemo il cinema ma il cinema vediamo che cosa è successo le persone che si sono presentate sono ancora lì a vedere se si sono ancora lì sono ancora lì di persone che conosce maria rosa c'era qualcuno vedo che c'è tutta una fila di cui lei sta nel senso che è in contatto con queste persone oppure ea conoscenza di queste persone qua sembra che ce ne siano due o tre che invece lei ma qui è un po più strettamente collegata due o tre persone amici o conoscenti comunque in contatto ok nuova vibrazione sì 240 per miliardi percentuali di consapevolezza ma da 260 per cento psp adesso la ps 60 per cento la p e 40 per cento un po più in equilibrio vite precedenti erano 2005 1740 cervello vedo un 7 7,2 per cento bene prima di chiedere messaggio finale di psp e di maria rosa maria rosa chiamiamo la nonna materna si e tutti i parenti di maria rosa che si vogliono presentare approfittando dell'apertura del portale aureo tutti i quali di questa vita e di tutte le generazioni precedenti che mario rosa non sa neanche che siano nonni non e segue bisnonni tris nonni tris avoli quando facciamo questo lavoro nome mentre arriviamo alla quarta generazione massimo non di più di allora come persone vedo all'incirca 140 persone 140 145 non di più e la nonna non si è presentata ciò che aspettava aspettava di poter parlare no perché si sono presentate tante persone cosa dice dice che lei la negli ultimi anni la osservata insomma nel senso che 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 è contenta che si sia liberata ma lei che c'è da tre quattro anni che si sia liberata da da delle credenze che si sia liberata di parti che che la facevano star male la facevano soffrire dice così dice che anche se non sono state molto in molto tempo insieme lei è proprio la la nipote che lei che le ha amato che le avrebbe voluto mi dice questo sì che è contenta di vederla di poterla salutare visto che per maria rosa processo è già finito si fa le vede avvicinare facciamo in modo che si avvicinino una psp e di un incarnato che si incontra con una parte subliminale di un disincarnato mentre se vicina maria rosa tende a diventare più piccola come metà nel senso che vedo che è diminuita d'età di altezza quindi d'età la bambina e si come arrivare ai due anni poi è partita dall'età di adesso è andata giù che voleva incontrarla come fosse stata una bambina ma che bella sta cosa o voleva incontrarla o non può che incontrarla così perché il rapporto con con questa anima che non si è avvenuto con la nonna molto grande la bambina molto e maria rosa molto piccola è come se ci fosse un uno stampo se maria rosa legato al tempo di quell'esperienza e poi lei dice questo maria rosa dice che anche lei vuole essere ancora coccolata cioè nel senso che come da nonna nipote quindi le fa piacere il poter essere tra più che trattata accolta come una bambina come la nipote quindi così così c'è questo incontro di queste due anime che si che riprendono rapporto diciamo così per un attimo di nonna nipotina ok la lasciamo andare la nonna si insieme a tutti quelli che i 140 che sono venuti mary rose è tornata grande nel frattempo la saluta da lì la nonna fa passare prima gli altri così che può salutarla ancora c'è che può ancora vederla ancora un attimo vedo che tutti camminano mentre parlano cioè come se si fossero rincontrati lì e si mettono a chiacchierare ma che bello come la riunione di famiglia un anno per me stai ma dai si 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 racconta le loro cose si sono tale auro sono passati e la nonna la saluta tendono la mano così si non si tengono la mano ma se la tendono a distanza si salutano ok è andata ok chiuso il portale messaggio finale a maria rosa della sua psp allora sono insieme fianco guarda ti dico ti dico quello che vedo è e sarà simbolico ma ho visto vedo che la ps no scusami la p e si è ha fatto un salto ha fatto un saltello si è messa in braccio la p e alla ps cioè come farsi tenere tenere su c'è al di là di quello al di là dell'immagine vedo che sono collegate sono sono strettamente collegate ho capito anche perché ha fatto quel saltello lì perché come se appunto visto che l'inizio una parte di p e è stata come catturata è stata come trattenuta quella che abbiamo visto che poi si è ripresa maria rosa adesso sono la p e tutta e tutta diciamo intera e ha più energia più e quindi sono insieme veramente insieme e quindi come se la ps la l'accogliesse diciamo così come se fossero unite adesso fossero complete messaggio finale il messaggio finale di e che adesso può vivere finalmente la sua vita senza avere delle interferenze esterne e che quindi non ci sarà più bisogno di richiamare a sé dei messaggi esterni quindi come la persona che entrano dal negozio anziché no quindi di desiderare e quindi richiamare a sé questi messaggi ma che semplicemente può adesso essere in contatto con con la sua ps la sua p e che sono all'interno cioè che quindi di che può affidarsi a se stessa totalmente quello quello che stanno dicendo ok con queste nuove condizioni ci saranno ancora abduction da bene ma tutto quello che è successo non è più possibile non è più possibile voglio un messaggio per come impostare il futuro quali sono i nuovi giochi che deve che deve sperimentare maria rosa nel senso maria rosa può tutto ma la prima è come se richiamasse come se avesse la necessità di richiamare a sé degli aiuti esterni no anche se lei non li identificava come aiuti li identificava come messaggi no quindi adesso semplicemente quando avrà un dubbio le potrà mettersi in piedi seduta comunque entrare un attimo in se stessa o respirando cioè pensando adesso entro in contatto con me stessa adesso mi centro il pensiero che riconosce più valido per lei e poi chiedersi chiedere a se stessa quindi ad esempio voglio realizzare quello io sto decidendo che voglio realizzare quello per dire no e quindi chiedere a se stessa dopodiché lasciare che quello avvenga cioè il messaggio l'ha inviato quindi l'energia ha mosso l'energia necessaria affinché questo possa manifestarsi anche l'esterno ma nel momento in cui dovesse questo mi arrivato dire dovesse avvertire che c'è un'interferenza all'esterno che anche fisica concreta come nel caso delle dei clienti che tornano nel negozio e all'interno di se ci può anche ascoltare ma all'interno di sé deve proprio ricordarsi che lei non ha bisogno che lei si affiderà solo alla parte a se stessa la sua ps la sua pia perché altrimenti questi riprendono ad avvenire quindi sposta di nuovo l'attenzione all'esterno invece lei può farlo cioè può veramente essendo centrata su se stessa lei non ne ha bisogno e le arrivano messaggi anche giusti giusti lei è il capo sì sì solo lei va bene pronto a tornare stefania pronta abbiamo finito disconnettiti da tutto e tutti noi torniamo